La chiesa monumentale dei Girolamini è stata per secoli una delle culle della musica a Napoli, proprio di fronte a Santa Maria della Colonna, che fu la sede dei poveri di Gesù Cristo, uno dei quattro conservatori della città famosi in tutto il mondo. Ed è qui che, in avvicinamento alla Settimana Santa, il coro universitario Joseph Grima ha dato vita venerdì 30 marzo ad un sacro dramma musicale con un programma notevole, aperto dal canto gregoriano per proseguire con Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni Battista Draghi, ovvero il Pergolesi, Enrico Radesca, Anton Bruckner, Ferenc List e Camille Sensone. Di notevole interesse, come spesso accade trattandosi dei tesori scoperti nel patrimonio librario dei Girolamini, le letture affidate a Nartea e trascritti a mano da un predicatorio gesuita pubblicato nel 1702, che espone il tema della passione a partire da alcune pronunce evangeliche.